In una Istanbul affascinante e intrisa di segreti, la vita di Nihan Sezin viene sconvolta da eventi imprevisti e oscuri che la trascinano in un vortice di emozioni e conflitti. La sua storia d'amore con Kemal Soidere, un amore che sembrava indissolubile, inizia a vacillare sotto il peso delle pressioni familiari, degli intrighi aziendali e delle ambizioni personali. Nihan, donna forte e determinata, cerca di proteggere la sua famiglia e il loro patrimonio, ma si trova spesso a combattere contro le forze che minacciano di distruggere tutto ciò che ama. Il suo legame con Kemal è messo a dura prova quando scopre che suo fratello, Ozan, è coinvolto in un losco affare orchestrato da Galip Kodskoglu, il potente patriarca della famiglia rivale. Galip, uomo affascinante e manipolatore, ha sempre visto Nihan come una pedina nel suo gioco di potere. Tuttavia, dietro la sua maschera di uomo d'affari spietato, si nasconde una complessità emotiva che nessuno sospetta. Mentre trama per distruggere la famiglia Sezin, Galip comincia a provare un'attrazione inspiegabile per Nihan, un sentimento che lo coglie di sorpresa. Nel frattempo, Nihan è intrappolata tra la lealtà verso la sua famiglia e l'amore per Kemal. La situazione si complica ulteriormente quando Emir, il figlio di Galip e l'acerrimo nemico di Kemal, scopre il segreto di suo padre. Galip ha avuto una relazione clandestina con Leila, la zia di Nihan, molti anni prima. Questo segreto, se rivelato, potrebbe distruggere entrambe le famiglie. In una notte di tempesta, Nihan si trova a confrontarsi con Galip in un confronto carico di tensione. La sua forza e determinazione colpiscono Galip, che vede in lei non solo una donna da usare per i suoi scopi, ma un'anima affine, qualcuno che potrebbe capirlo come nessun altro. Il loro incontro prende una piega inaspettata quando Galip, in un momento di vulnerabilità, rivela a Nihan il suo lato più umano, parlando dei sacrifici e delle scelte difficili che ha dovuto fare nella sua vita. Nihan, inizialmente respinta dalle parole di Galip, comincia a vedere in lui non solo un nemico, ma un uomo complesso, tormentato dai suoi demoni. Galip, a sua volta, è affascinato dalla forza e dalla purezza di Nihan, sentimenti che non può più ignorare. Tra loro si sviluppa una tensione palpabile, un'attrazione che entrambi cercano di reprimere. Le loro vite si intrecciano sempre di più, tra segreti rivelati e momenti rubati. Nihan, combattuta tra l'amore per Kemal e l'attrazione per Galip, si trova a dover prendere decisioni sempre più difficili. Galip, nel frattempo, deve confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni passate e il desiderio crescente per Nihan. Mentre la tensione tra le due famiglie raggiunge il culmine, Nihan e Galip si trovano di fronte a una scelta impossibile. Galip, che ha sempre vissuto per il potere e il controllo, deve decidere se rischiare tutto per un amore che non aveva mai previsto. Nihan, che ha sempre lottato per ciò in cui crede, deve decidere se seguire il suo cuore o proteggere la sua famiglia a tutti i costi. In un momento di svolta, Galip decide di sacrificare tutto per salvare Nihan e la sua famiglia, rivelando pubblicamente i segreti che lo legano alla famiglia Sezin. Questo gesto d'amore e redenzione cambia tutto, portando alla luce verità nascoste e mettendo fine all'odio tra le due famiglie. Alla fine, Nihan deve affrontare la realtà delle sue scelte. Il suo amore per Kemal è sempre stato il centro della sua vita, ma l'attrazione per Galip ha rivelato una parte di sé che non conosceva. Con il cuore spezzato, Nihan sceglie di seguire la strada della verità e dell'onore, decidendo di restare al fianco di Kemal, ma portando con sé il ricordo di un amore proibito che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Epilogo Galip, pur avendo perso tutto, trova una sorta di pace nel sapere che il suo sacrificio ha permesso a Nihan di vivere libera da intrighi e menzogne. Nihan, anche se con il cuore spezzato, continua a lottare per ciò in cui crede, portando avanti il sogno di un futuro migliore per la sua famiglia e per la sua città. La storia di Nihan e Galip rimane un sussurro nelle ombre di Istanbul, un racconto di amore proibito e di sacrifici che nessuno conoscerà mai completamente, ma che ha cambiato per sempre il destino di due famiglie. In quella città antica e moderna al tempo stesso, dove i minareti si stagliano contro il cielo e il bosforo riflette i segreti di secoli passati, si narra di un amore nato sotto stelle avverse. Le vite di Nihan Sezin e Galip Kotskoglu si intrecciarono in un momento di vulnerabilità e passione, rivelando la complessità delle emozioni umane. Nihan, cresciuta in una famiglia di prestigio, aveva sempre vissuto nel lusso e nella protezione. Il suo mondo era fatto di regole, aspettative e un amore indiscusso perché malsoidere. Tuttavia, il peso delle responsabilità familiari e delle lotte di potere aveva eroso lentamente la serenità del loro rapporto. Le macchinazioni del destino portarono Nihan a incrociare il cammino di Galip, un uomo che incarnava tutto ciò che lei aveva sempre temuto e disprezzato, il potere, la manipolazione e l'oscurità. Galip Kotskoglu, d'altra parte, era un uomo segnato dalle sue scelte. Dietro la facciata di imprenditore di successo si celava un'anima tormentata, intrappolata in un labirinto di ambizioni e rimorsi. La sua storia con Leila, la zia di Nihan, aveva lasciato cicatrici profonde rendendolo ancora più cinico e implacabile. Eppure, quando i suoi occhi incontrarono quelli di Nihan, qualcosa cambiò. In lei vide non solo una nemica, ma anche una speranza di redenzione, una possibilità di riscatto. Il loro primo incontro fu carico di tensione. Nihan si trovò costretta a confrontarsi con Galip per proteggere suo fratello Ozan, che era caduto nella trappola di un affare losco orchestrato dallo stesso Galip. In quell'occasione le parole di Galip, piene di disprezzo e sfida, risuonarono come un eco nella mente di Nihan. Tuttavia, dietro quella maschera di durezza, lei percepì un dolore nascosto, un'anima in cerca di comprensione. Con il passare del tempo, il destino continuò a giocare con le loro vite, mettendoli l'uno di fronte all'altra in momenti cruciali. Ogni incontro, ogni sguardo, ogni parola scambiata alimentava un fuoco segreto che entrambi cercavano di ignorare. Galip, abituato a ottenere ciò che voleva con la forza e l'astuzia, si trovò a desiderare qualcosa che non poteva controllare, l'amore di Nihan. E lei, pur combattuta tra il dovere verso la sua famiglia e l'amore per Kemal, non poteva fare a meno di sentirsi attratta da quell'uomo complesso e tormentato. In una notte di tempesta, trovandosi soli in una villa isolata, i loro sentimenti esplosero in tutta la loro potenza. Galip, in un momento di vulnerabilità, aprì il suo cuore a Nihan, raccontandole dei suoi rimpianti, dei suoi errori e delle sue paure. Nihan, ascoltando quelle confessioni, vide in lui non solo il nemico, ma un uomo ferito, in cerca di redenzione. Fu in quella notte che il loro amore proibito prese forma, un amore che sapevano essere destinato a rimanere nascosto, a vivere nell'ombra. Ma il destino, impietoso, non permise loro di godere di quei momenti di felicità rubata. Gli intrighi e le vendette delle loro famiglie si intensificarono, portando a scelte sempre più difficili e dolorose. Galip, consapevole del pericolo che correvano, decise di sacrificare tutto per proteggere Nihan e la sua famiglia. In un gesto estremo di amore e redenzione, rivelò pubblicamente i segreti che lo legavano alla famiglia Sezin, mettendo fine all'odio che aveva avvelenato le loro vite. Quel gesto d'amore ebbe conseguenze devastanti. La verità, una volta rivelata, cambiò per sempre le dinamiche tra le due famiglie. Nihan, pur riconoscendo il sacrificio di Galip, dovette fare i conti con il peso delle sue scelte. Il suo amore per Kemal, messo a dura prova, uscì rafforzato, ma con una consapevolezza nuova. L'amore può nascere anche nei luoghi più inaspettati e tra le persone più improbabili. Galip, pur avendo perso tutto, trovò una sorta di pace nel sapere che il suo sacrificio aveva permesso a Nihan di vivere libera da intrighi e menzogne. La sua figura, un tempo temuta e odiata, divenne un ricordo amaro e dolce al tempo stesso, un simbolo di ciò che avrebbe potuto essere e di ciò che era stato sacrificato per un bene superiore. Nihan, con il cuore spezzato ma determinato, continuò a lottare per ciò in cui credeva. Portando avanti il sogno di un futuro migliore per la sua famiglia e per la sua città, trovò la forza di superare le avversità e di onorare il ricordo di un amore che, seppur proibito, l'aveva cambiata per sempre. La loro storia rimase un sussurro nelle ombre di Istanbul, raccontata di nascosto nelle stanze segrete dei palazzi e nei vicoli nascosti della città. Un racconto che, pur essendo conosciuto solo da pochi, continuò a vivere nei cuori di chi aveva amato e perduto, di chi aveva sacrificato tutto per un ideale più grande. E così, tra le luci e le ombre di Istanbul, l'amore proibito di Nihan e Galip rimase eterno, un eco silenzioso che risuonava nei cuori di coloro che credevano nel potere dell'amore e del sacrificio. Cosa pensi di questa anticipazione? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Endless Love.